Giulia Revisore 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 Buongiorno, buongiorno e grazie e niente slide. È cuore e passione, cuore e passione, perché adesso quando in questi giorni parlavamo e pensavo ai quindici minuti, perché per noi il tempo è veramente molto importante. È importante che quotidianamente condividiamo, parliamo del tempo, è organizzazione. Dieci secondi cambiano una partita, una settimana, un mese, una stagione. Però quando ho visto i 15 minuti mi sono venuti in mente i 15 anni di Trento, per la prima volta, 15 anni. 15 anni sono l'allenatore più longevo su una panchina di serie A, come anni consecutivi, come anni complessivi. Ma non è che lo dico per quello, lo dico perché forse riesce a sottolineare che tipo di lavoro abbiamo fatto, che tipo di condivisione c'è stata. Abbiamo parlato, organizzato, preso decisioni difficili, cambiato in corsa, discusso, diversi ma uguali, ma sempre parlando di lavoro, sempre mettendo il lavoro al centro, mai le persone. E probabilmente questa cosa qui ci ha permesso nel tempo e per così tanto tempo di lavorare. Però lo metto un attimo da parte, perché c'è il prima. E venendo qua, o pensando di venire qua, per la quarta volta, perché me le ricordo tutte, per la quarta volta mi è venuta in mente la palestrina dell'inizio, perché ho un percorso un po' differente. Non sono né stato un grande giocatore, ho solo giocato, e non sono stato all'interno di un club importante, scolarizzato, passatemi il termine, comunque all'interno di un club di serie A, dove alleni i ragazzi, dove sei assistente, dove vivi nei corridoi e senti parlare, comunque respiri l'aria direttamente, no? Subito, dell'alto livello. E invece non è stato così. E venendo qua mi è venuta in mente, mi sono venuta in mente queste immagini quattro volte. Oggi, quando siamo andati in serie A, vincendo l'ultima partita, la promozione in serie A, mancavano dieci secondi alla fine, abbiamo fatto un canestro del più dieci. Io ho iniziato a correre, perché dicevo ai miei giocatori di tornare in difesa, per fortuna si è alzato un mio giocatore e mi ha detto, coach, coach, canestro da undici non esiste, è finita, ce l'abbiamo fatta, tranquillo, io sei secondi, cambia il mondo. Quei sei secondi camminando mi hanno fatto rivenire lo stesso flash. La terza volta è entrando in uno spogliatoio NBA prima di una partita, l'NBA. L'ingresso prima sul campo e poi dentro lo spogliatoio, con i giocatori NBA seduti intorno. E un'altra volta, quando ho ascoltato l'inno da allenatore di una nazionale, al campionato europeo. In queste quattro volte ho avuto l'immagine della palestrina di Ponte San Giovanni alle porte di Perugia e Casteldebole alle porte di Bologna, che mi piace nominarle, non c'erano neanche le tribune, le panchette, avevo i palloni, siccome il custode era amico avevo anche la chiave, perché se qualcuno voleva venire prima o lo chiamavo prima, se comunque qualcuno voleva rimanere dopo a migliorare qualcosa, io ero lì o lo stimolavo a rimanere o rimanevo con lui. E lo dico soprattutto perché sono due città diverse, perché ho preso e sono andato. Ci vuole sempre una persona seria con cui lavorare, con cui condividere questa cosa. Per fortuna l'ho trovata, la trovai, però sono andato, ma dove vai? Eh, vado ad allenare, a che fare? All'allenatore, ma di mestiere? Eh, professionalmente sì, vediamo cosa succede. E me le ricordo perché intanto sono immagini che mi sono rimaste in testa sempre, sempre. Perché alla base di tutto, la passione, il sangue che scorreva nelle vene quando entravo in palestra e parlavo con questi giocatori, tra l'altro per tanti anni sono stato il più giovane delle categorie, allenavo coetani o giocatori più vecchi, e nelle serie minori, avendo fatto una trafila diversa, come vi dicevo, e avendo anche capito che bisognava vincere per andare su, bisognava far qualcosa di diverso per andare su, perché non era facile. Come quando ci cercavano diplomati, militesenti, automuniti a 21 anni. Oh, che miseria, datemi tempo, un attimo, far tutto. Però ho capito che quella cosa lì era una cosa da fare in questo modo. E sono riuscito piano piano, però quel campo lì è stata la scuola. E ci vuole invece anche dello studio, per cui parallelamente, perché il gioco evolve, perché il gioco cambia, perché comunque non sei stato con tante persone che te l'hanno insegnato, ma le sei andate tu a cercare, le sono andate a cercare. Sono andato nelle palestre, negli uffici, negli impianti, di chi già lo faceva, di chi già era ad alto livello. Il giorno prima della partita, il giorno dopo della partita, a metà settimana, dopo un periodo positivo, dopo un periodo negativo, dopo grandi litigate, con tanto amore, per capire cosa e come venivano gestite le persone. Perché la parte emozionale ed emotiva è fondamentale, è fondamentale. In ogni momento devi andare a prendere le corde dell'anima delle persone che lavorano con te, che hanno tutte comunque un ruolo, sono tutte importanti, vogliono tutte essere importanti, sia come squadra che come staff, perché anche lo staff tecnico è fatto di professionisti, unici nel loro mestiere, otto persone, otto mansioni diverse, otto incarichi da mettere tutti insieme sullo stesso binario senza però far perdere la loro personalità. non è facile e credo che, anzi lo so, che il campo, comunque il lavoro sul campo mi ha dato una grande mano perché impari anche molto a condividere, impari ad ascoltare, facendo alle volte finta di no, ma impari ad ascoltare, chiedi, ti fai buttare addosso l'energia dagli altri perché tu ne devi avere tanta e per tutti quanti e hai bisogno di creare delle condizioni per cui riceverla, lì dipende anche dallo spessore dei giocatori o dei collaboratori. Questa cosa qui è stata fondamentale e secondo me la passione che abbiamo avuto, mi dispiace ripetere questo termine ma è veramente così, è stata alla base anche del rischio. Forse non mi ha fatto neanche mai pensare all'incoscienza di prendere, andare, ma dove vai? Con quali sicurezze se non qualche persona che voleva e vedeva che si potesse costruire qualcosa? Quella passione lì secondo me ha avuto la fortuna di condividerla con chi aveva in mente dove arrivare, ma aveva una grande qualità che secondo me, cioè io me la sono sempre tenuta, riuscire ad avere degli obiettivi raggiungibili. Nessuno dimentica là dove arrivare, ma il primo passo, perché se no si rischia di pensare a là, a laggiù e poi ad aspettare che, non viene da solo, piccoli obiettivi durante la strada raggiungibili. Adesso che vedo sette minuti, mi vengono in mente anche i sette anni, perché questo percorso sette anni fa era lì, eravamo lì, c'era mezzo metro e si cascava giù e si cadeva giù. Dopo un percorso positivo, dopo che l'azienda, perché lo sport ha sempre guardato a come organizzare aziendalmente le cose, sempre, ora c'è un po' di ritorno, c'è un po' di scambio, perché lo sport negli suoi equilibri rappresenta molto la vita vissuta, ma noi ci abbiamo sempre guardato a quell'aspetto aziendale e nel momento in cui abbiamo fatto il primo step e abbiamo cercato di farne altri, volevamo essere responsabili di 5.000 persone intorno a noi. Volevamo andare in campo dicendo è pieno, volevo andare in campo dicendo mamma mia, devo stare attento, ho un patrimonio sotto le mani da valorizzare, anche perché la nostra scelta in un territorio di lavoro, in un club di Trentini, che forse nel DNA hanno quel tipo di organizzazione di capacità lavorativa, era molto importante. E quando siamo arrivati lì, la passione, sapendo sempre da dove eravamo prima, da dove siamo arrivati, e che è stata la base di tutto, ci ha permesso a un mezzo passo dal cadere di spiccare praticamente l'ultimo salto, l'ultimo volo, perché poi è stato campionato vinto, Coppa Italia vinta, campionato vinto, Coppa Italia vinta, Serie A, Serie A, Europa, Europa, palestre e impianti da 20.000 persone, parametri tecnici, economici, di team completamente cambiati in pochissimo tempo, un frullatore, noi gli stessi, noi evolvere la nostra professionalità, la capacità di stare insieme per rimbalzarci delle idee, sempre con le dovute gerarchie, senza invadere il territorio degli altri, ma mettendo il lavoro davanti, ti vengono in mente sempre i percorsi precedenti, perché anche quegli altri spogliatoi avevano comunque gente che magari nelle serie minori o lavorava, o studiava, o comunque erano ex giocatori, erano mentalità leggermente diverse, però il denominatore comune era come faccio a tenerli sullo stesso binario, come faccio, come faccio, adesso la squadra ora attualmente vive di multiculturalità, tosta, time out, tanto ne ho 5 in una partita, faccio un time out, time out è importante, 55 secondi per dire due cose intelligenti, non è facile anche perché bisogna andare veramente a colpire, ma noi abbiamo americano, messicano, olandese, lettone, portoghese, argentino, italiani di varie zone d'Italia, cioè non è un problema della lingua, è un problema di come si vive, di come si offendono, di come gioiscono, di come parlano, e tu devi dare a tutti un ruolo, tu devi dare a tutti un sentirsi importante, tu devi dare a tutti l'unicità che rappresentano all'interno del gruppo, ma un team, spalla a spalla, dove finisco io cominci tu, che è un lavoro difficilissimo, non è vero che è differente quando si comincia dalla serie minore, dalla palestrina, dove i palloni ce li avevi sulla spalla, non è vero, cambia la professionalità, cambiano l'esperienza, ma come la gioia di un risultato ottenuto è sempre lo stesso, nell'ultima categoria e nella prima, è la stessa perché è rapportata, è gioia, è sentire che il lavoro ha portato frutti, altrettanto lo è nel momento in cui lavoriamo con le persone, ovviamente l'aspetto multiculturale cambia nel momento in cui devi ragionare, iniziare a pensare e a capire come sono, non si può aspettare, tu aspetti me, io aspetto te, non andiamo a nessuna parte, dobbiamo trovarci in un punto, il punto è il bene di tutti quanti, questa cosa qua non può esserci se è solo razionale, non può esserci se è solo schematica e organizzativa, serve una trasmissione dalle vene perché poi si riporta negli occhi, perché poi si riporta anche nelle intuizioni, si riporta nel sapere quando è il momento di fare una cosa e si riporta anche nella non paura di rischiare, uno non può non cominciare perché è dura, non può non cominciare perché sarà dura, non può non cominciare perché però se poi non va, ma non se ne parla neanche, non se ne parla neanche, comincia, lavora, però lo deve rendersi conto se è veramente una cosa che riuscirà a non abbandonare. Io ci vado a letto perché quando, insomma, veramente prima di spegnere la luce uno dice, oh, non la mollo, non la mollo, difficoltà o no, non la mollo perché quando entro e supero la riga del campo, entro in palestra e iniziano a muoversi intorno a me, sento dei brividi addosso che penso e spero di trasmettergli e di potergli ancora trasmettere. Grazie.